Ciao, sono Maurizio, vivo a Milano, da sempre. Ho lavorato tutta la vita e spero presto di riuscire a trasferirmi su questa meravigliosa isola che è Forte Ventura. Un'isola dove la costa, il cielo, il mare, le montagne si uniscono tutte fino all'infinito e hai proprio la sensazione delle onde che si susseguono un po' come la vita. Spero di portare il mio progetto musicale, questo progetto musicale con le onde dell'oceano. Spero di trovare un po' di pace anch'io. Spero di trovare un po' di pace anch'io. Spero di trovare un po' di pace anch'io.